Ben trovati amici ed amiche di Quelle Iene sul Tubo, ancora qui con Ienale Iene Cinz, purtroppo sì, a darvi un po' di fastidio, ogni giorno qualcosa ci uscirà da dire, spero di no Giusto per molestarvi un po' come sempre, vabbè, bando alle ciance Stiamo qui per parlare in particolare della conferenza stampa di De Laurentiis dove c'è stata anche la presentazione di Ancelotti e l'argomento caldo ancora del momento Ronaldo e nello specifico anche l'affare ovviamente di Giorginio, il passaggio di Giorginio per 55 milioni 65 milioni, un vero affare a nostro avviso Ai Blues, al Chelsea, insomma partiamo subito Partendo dall'inizio, insomma, andando per gradi Volevamo parlare, Cenzo, dicci tutto, di queste parole di De Laurentiis in particolare sul Ronaldo e sugli introiti, spiegaci tutto Allora, prima di tutto faccio una premessa dicendo che De Laurentiis da molti non è amato come presidente sebbene sì, non è forse un presidente che mira a far vincere la squadra mi posso assicurare che come imprenditore ha le palle, assolutamente un grandissimo imprenditore e lo dimostro il fatto, per l'appunto, ultimo, gestione fatta Giorginio, 65 milioni al Chelsea che secondo me, personalmente, non li vale manco alla lontana Secondo lui è un affare, poi in particolare per il Cenzo, perché Giorginio non è mai andato a Genio No, Giorginio è un ottimo giocatore, si sistemava benissimo nel modo di giocare di Sare però sinceramente 65 milioni non li vale, perché con quella cifra ci potresti comprare qualche giocatore che secondo me ha qualche dote tecnica di più Comunque, fatto sta che De Laurentiis non è amato da tutti ma va detto che comunque ha preso il Napoli in una situazione difficile e l'ha portato a quello che è oggi comunque a competere con una squadra come la Juventus e ha, prima di tutto, ad appianare tutti i ribidi possibili e immaginabili ma soprattutto ha portato a fare plusvalenze importanti e a costruire una squadra di un certo livello Diciamo che De Laurentiis ha colto un punto quando gli è stato chiesto se Ronaldo avesse portato qualche beneficio al Serie A in genere e lui giustamente ha battuto il chiodo su un argomento, quello dei diritti televisivi che lui sta molto a cuore da parecchi anni che ne parla e che si, diciamo, un pochettino in albera nei confronti di chi pone la domanda o di tutti quelli che ascoltano per la questione dei diritti televisivi perché? Perché De Laurentiis ha detto che i diritti televisivi che ormai sono stati chiusi non avranno vantaggio, almeno per quanto riguarda quelli della Serie A perché poi quegli esseri sono a parte non avranno vantaggio del fatto che è arrivato Ronaldo perché prima di tutto non è stata messa assolutamente un'opzione per poter ricontattare gli sponsor, per poter ricontrattare il contratto in essere e quindi non sarà possibile dire, bussare, proprio come ha detto lui, bussare alla porta degli sponsor e dire, senti, io c'ho Ronaldo, invece di dammi 750 milioni per i prossimi tre anni ne voglio almeno un miliardo e 250 Che tutto ciò appunto è stato fatto prima dell'arrivo di Ronaldo in pratica Sì, e io do ragione assolutamente a De Laurentiis per il fatto che questa opzione dal punto di vista contrattuale manchi per poter ricontrattare gli sponsor Ma io do ancora più ragione su quello che ha detto in passato, addirittura minacciando di togliere il Napoli dalla Serie A, di ritirare la squadra, per la questione dei diritti televisivi perché effettivamente chi come lui, un imprenditore come lui, non può capire una situazione del genere quando ha affermato che i contratti quadriennali addirittura o questo ovviamente l'ultimo che si è fatto è stato triennale però all'inizio era pensato a un contratto quadriennale, ovviamente quattro anni, diceva lui con le grandi piattaforme di streaming, di condivisione, di media che stavano crescendo come YouTube, come la stessa Amazon che si sta inserendo sul mercato non si poteva mai sapere cosa sarebbe successo e quindi fanno un contratto così lungo avrebbe ovviamente tagliato le gambe all'intera Serie A ed effettivamente io sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto De Laurentiis all'epoca lo sono ancora oggi e soprattutto per me il contratto triennale effettuato senza opzioni è una grandissima cagata passate nel termine perché ora abbiamo Ronaldo in Serie A giustamente io avrei bussato volentieri e aver chiesto un aumento tra l'altro volevo aggiungere che sì, Ronaldo porterà sicuramente dei benefici della Serie A però dal punto di vista dei diritti televisivi sicuramente verrà favorita la Juventus per quanto riguarda proprio avere il giocatore e attenzione che qualche piccola compagine straniera che potrebbe gestire i diritti televisivi potrebbe anche potare ipotizziamo così alla lunga diciamo che credo sia difficile di fare un pacchetto solo Juventus quindi per i telespettatori esteri la vedo difficile perché comunque ci andrebbe a perdere perché anche dovrebbe fare un costo abbastanza basso sulla questione del pacchetto che andrebbe a vendere però secondo lui potrebbe essere lungo un'opposizione quindi diciamo che De Laurentiis ha fatto bene a innalberarsi su questo argomento comunque fatto sta che il povero De Laurentiis, presidente partito europeo è vero che ogni anno se ne esce o qualche cagata di troppo però quando ha ragione ha ragione e va dito dopo che ha fatto sta fare Giorginio insomma ci sta a dare un po' di voce a De Laurentiis vabbè quindi noi vogliamo focalizzarci su questo aspetto perché la vediamo così quindi ha ragione De Laurentiis quindi gli dice ovviamente anche voi la vostra cosa ne pensate su questo aspetto sì ovviamente poi considerate che il povero De Laurentiis voi immaginate quei film che caccia così brutti nonostante ciò è un imprenditore eccezionale perché è ancora a galla dopo volendo fare la battutina comunque sì alla fine De Laurentiis sa il fatto suo sa quello che fa, sa come si gestisce un'impresa è un grande impresario e lo ha dimostrato con l'ultimo colpo lo ha dimostrato anche con queste uscite che fa su determinati argomenti importanti ovviamente non lo dimostra nel momento in cui si lamenta una continuazione di qualcosa oppure fa qualche diciamo litiga con l'allenatore in carica insomma su queste cose siamo d'accordo con tanti di voi tifosi napoletani che giustamente volete anche vincere subito e ci sta però va detto che comunque dal punto di vista impresario è un signore un discorso calcistico che effettivamente interessa poi maggiormente a noi tifosi insomma a tutti i tifosi e quello che interessa però comunque diciamo dopo questa marea di chiacchiere che vi abbiamo fatto sette minuti di rompimento di Kones andiamo avanti e vi diciamo ci vediamo in un prossimo video statevi bene ciao